Cioè in città puoi fare qualsiasi cosa, parliamoci chiaro, in città puoi mangiare in mille ristoranti diversi, puoi andare a teatro, puoi andare al cinema, in provincia puoi fare un sacco di cose che in città non puoi fare, puoi parcheggiare, ovviamente scherzo, cioè in provincia puoi veramente, puoi prendere la macchina, andare in città, girare 3-4 ore cercando parcheggio, tornare in provincia e parcheggiare. Questa ovviamente è la visione di un milanese, bauscia, il classico che guarda la provincia, figa noi, noi, cioè noi di città cazzo non possiamo fare qualsiasi cosa, cioè dove mangiamo stasera ragazzi, dove si mangia, algerino, tunisino, marocchino, spagnolo, filippino, vaticanese, dove si mangia ragazzi? Poi alle 23 siamo tutti in salotto con la pizza del kebabaro perché non riusciamo a prendere una cazzo di decisione, invece in provincia se ti ci metti grazie alla noia puoi ingegnarti e fare un sacco di cose, puoi organizzare proprio delle, eh, cioè in provincia puoi organizzare delle, delle messe nere.